Grazie a tutti. Allora, vi presento Jerry Jerky, che è il nostro capo del network, il direttore del nostro C&O, direttore mondiale, chief network officer. E lui oggi è venuto qui per vedere cosa sta succedendo, quali sono le ragioni di questo boom e per darci delle grandi novità, dei grandi aggiornamenti e commentare tutto quello che sta succedendo qui. Jerry, I was just introducing you, I told you that you are here to congratulate with us, to see what is going on here in Italy. We also have a blessing from California, maybe is very close to you. She is a brand new business associate, who is willing to come in Dubai. She only registered, enrolled a couple of days ago. She wants to come to Dubai as a sales director and then eventually as a vice president. So, I'm going to give you, it's your turn now. Please, help us congratulate these wonderful people here in Italy. You have the word. Well, to everybody that's on this webinar, it is an honor and a privilege to be with you today. I want to give special thanks to both Michael as well as David. Your leadership has been absolutely astounding. We're so pleased. We're so proud of you and proud of all of our members. and just a special thank you to my California neighbor who is new to the Italy group and you are already setting the example by being in Dubai for the Dubli Summit. Okay, Jerry dice, penso che si sia capito, dice che è molto contento di essere qui, è un onore per lui, vi saluta a tutti, saluta anche Blessing, la vicina della California, ed è un onore per lui essere qui oggi a commentare quello che sta per dire. From the bottom of my heart, my wife and I have both been to Italy numerous times. I've had the opportunity to build large organizations from the corporate side in Italy. There's no question, your language is the most beautiful language. Your country is one of the most beautiful. And I loved the music as you started because, like Italy, music is the common language for all of us on planet Earth. Okay, allora, thank you, Jerry. Jerry dice che vi ringrazia, ringrazia a tutti noi dal profondo del cuore. Lui è stato in Italia molte volte a livello corpore per le aziende e ritiene che il nostro paese è uno dei, è un paese bellissimo, il più bello al mondo. È innamorato anche della nostra lingua, dice che la nostra lingua è la più bella e in assoluto è innamorato anche della nostra musica, perché la musica è una lingua universale. Okay, go ahead. So, Michael, I don't know if it's you that's going to control the presentation. If that's okay, thank you very much. Let's get right to the information. This is a call on many different fronts, one of them being edification and communication. I want to make sure that everybody can see that we have a brand new senior vice president. Ok, prima di tutto iniziamo dalle comunicazioni. Come avete visto in questa slide, ma anche nei nostri canali sociali, allora oggi, anzi ieri, c'è una nuova senior vice president, la prima senior vice president nella storia di Dubli. Blanca è entrata, tra l'altro l'ho conosciuta l'altro anno a Dubai, è entrata in Dubli circa tre anni fa. Quindi, correggo, ho detto circa due anni nel mio post, ma comunque circa tre anni fa. e quindi è la prima donna senior vice president è il più alto rango in assoluto di Dubli. One of the things that I asked to be a part of this call, and thank you for our leadership for being so gracious, but again, communication. I'll use David and Michael as an example. They treat Dubli like a multi-million dollar business, which means we need to all treat it like a million dollar business. And recently, there was some negative statements made on the internet. I'm on here to let you know that this is our formal reply. We are actually filing a lawsuit. The most important thing is for you to know that we have a New York public relationship firm that is hired to do nothing but help you with the brand, the name, and we will do everything to protect it. Dice che è un aspetto molto importante, uno dei motivi per cui anche ha tenuto che tutti noi siamo qui, magari molti non sono al corrente, recentemente c'è stato un video di questo Matt Trainer negli Stati Uniti che ha parlato diciamo male di Dubli e l'azienda ha già preso i provvedimenti dal punto di vista legale, ha fatto una causa contro questa persona e dice molto importante come io e Michael stiamo trattando questo business come un business da un milione di dollari e quindi questa è la risposta ufficiale adesso la nostra azienda ha un ufficio, ha un, scusate, delle persone che si dedicano apposta a New York proprio per difendere il nostro brand. Ok, go ahead. Next slide, please. Social media, it is an absolute pleasure to see you, our Italian members, sharing, posting comments, celebrating Dubli. The reason why I have this slide on for all of us is to just touch on one thing. It is important for us to be active on the Dubli Facebook page. Like what you see, comment what you see and share what you see. David? Ok, una cosa molto importante è i social media, l'azienda punterà molto su questo, quindi lui è molto contento che noi come italiani stiamo facendo molto sharing, cioè stiamo condividendo, siamo attivi, stiamo condividendo le notizie che l'azienda pubblica e quindi essere attivi vuol dire commentare, condividere e diffondere queste informazioni, quindi molto molto contento. Second reason, go back one to the slide, thank you. The second reason for having this on is to tell you, please, we need your help to not do this. What some people are doing, not in Italy, but other parts of the world, is when they see a post from Dubli, they share it, but they add or modify and actually put their own business associate ID number or reference to them. We ask that you do not do that. This is for the world for us to share. And keep in mind, the number one thing is it increases the branding of Dubli, and that's important for all of us. So share, like, pass along and continue to use hashtags as we promote the Dubli brand. Ok, un'altra cosa molto importante, lui consiglia di non farlo, ci chiede di non farlo, quando noi facciamo la condivisione dei brand, molte volte vede, non succede per l'Italia, ma soprattutto altri paesi, praticamente c'è gente che fa la condivisione e quando fanno la condivisione modificano i materiali ufficiali dell'azienda, per esempio i post li modificano o ci mettono il loro ID prima di fare la condivisione. Quindi una cosa molto importante, per favore lasciate i post ufficiali dell'azienda così come sono, non modificateli, è importante proteggere e aumentare il valore del brand dell'azienda più che i singoli team particolari, almeno con le comunicazioni ufficiali e ovviamente la raccomandazione di usare, di utilizzare gli hashtag. Next slide, please. And if you could click one by one, that would help. As we started out this call, it is very important for us to celebrate and I can tell each and every one of you that every single morning I look forward to waking up and seeing which Italian Dubli members have advanced in rank. So we want to spend the next couple of slides, not naming each one, but David, you know which ones to edify and mention. The important thing is we are proud of you, we celebrate with you, and I look forward to grabbing you on stage and celebrating with you in Dubai. Okay, Jerry ogni mattina si alza per vedere, è molto eccitato, per vedere l'Italia, cosa sta succedendo, quali sono i nuovi avanzamenti di carriera, nuovi direttori, nuovi team coordinator e quindi dedicherà le prossime slide per dare delle congratulazioni, felicitare queste persone che sono, vedete qui nella lista. Lui non scenderà nei dettagli, nei nomi, non li leggerà, probabilmente forse è meglio che li faccia io perché non sa bene come pronunciarli, ma è per dare risalto a queste persone che si stanno impegnando molto. Le nomino io a questo punto, quindi Massimo Del Moro, Luca Bollerani e Lorenzo Grassia, Alessandro Betti, Matteo Pitalunga e Fabio Gallerani, Monica Astrologo, Manuel Zandonai, Ramon Gatto, che ha fatto team coordinator oggi, Paolo Bozza, che era team coordinator stamattina e ora è anche direttore, Isabella, proprio notizia di dieci minuti fa, Isabella Macor, Gianni Zanetti, Claudio Stefani, Max Ceccaroni, Ramon Gatto e Luigi Tirati. On behalf of Michael Hansen and all of the corporate network team, we celebrate with you, and Paolo Bozza, as I see his name, I believe he's the brand new sales director, he's at another meeting right now, supporting all of the teams in Italy, and again David, congratulations to all of these. Yes, so again, congratulations on the part of Michael Hansen and all of the team, and congratulations in particular also to Paolo, who right now, in these minutes, is director, and is on the field, and is supporting and supporting his team. Next slide, please. As we started this call, and I heard the beautiful music, Bruno Mars, Maroon 5, all my favorite bands, the song that stood out for me, which is universal, it was a question, what are you waiting for? And as I look at these names and we celebrate the achievers, they're not waiting for anything, they're just doing it. So for these two special ones, a brand new team coordinator and a brand new sales director, what are you waiting for? We're going to be ready for you when you hit vice president and senior vice president, and in the meantime, David, let's celebrate and recognize these two incredible leaders. Sì, ecco, Jerry dice che quando abbiamo iniziato ha sentito questa bellissima musica che li ricorda molte cose, la musica è un linguaggio universale, vedo che a lui piace molto parlare in questi termini, e dicevo, lui si chiedeva perché c'è questa musica, cosa stiamo aspettando, e il motivo è che proprio mentre ascoltavamo la musica due nuove avanzamenti di carriera, Piero Antionio, scusate, Aprilis, nuovo team coordinator e Paolo Bozza, proprio nel momento stesso in cui stavamo per iniziare la conferenza, e tenete d'occhio queste persone perché saranno rispettivamente i prossimi direttori e vice presidenti. And I believe these are going to be people that we will celebrate in the very new future, maybe the next week, maybe in two weeks. But while there is one name here of the two, I would just like to make a special recognition. and David, I know this is hard for you to translate when we're talking about you, but just ten days ago, we had a global call to all of the network and we chose five individuals in the whole world of Dubli as those that have the best support and attitude in all of Dubli. And right there in Italy is David Lombardi. So, a special thanks to you, David. You are setting the bar. You come to us with solutions. And we just want to say thank you for your incredible leadership. And to Paola as well. Thank you, Jerry. Jerry dice che, vabbè, qui dovrò parlare un po' di me, ma preferisco non commentarmi. Allora, queste due persone, tra cui ci sono anch'io, entro una settimana, massimo due, saranno nuovi vice presidenti. Allora, lui coglie l'occasione anche per ricordare che proprio dieci giorni fa c'è stata una conferenza mondiale con tutti i sales director, vice presidenti e senior vice president, dove c'erano praticamente tutti i più grandi top leader al mondo. E loro, l'azienda, ha scelto cinque persone del mondo come riconoscimento, da nominare, come persone che hanno, diciamo, contribuito a ispirare l'azienda, a trovare le soluzioni, eccetera, eccetera. E quindi una di queste ero io in poche parole. Quindi, ok, ok, Jerry. Ok, and again, just as we look into the future, we will be celebrating not only two new vice presidents, but we will be celebrating multiple and multiple new sales directors. And I really believe, indubbly, the sales director position is so critical and so important because it really is the first stepping stone to leadership in Dubai. So, to all the people on this list, a advanced congratulations and look forward to seeing you in Dubai. Ok, allora, praticamente, Jerry dice che non solo i vice presidenti, ma anche i direttori, ci sarà un'esplosione di direttori nei prossimi giorni, li vedete qui, li nomino in velocità, Giovanni Tarantelli, Luca Brignoli, Luigi Marangione, Luca Boreani, Manuel Zandonai, Domenico Turi, Ramongato, Pierantonio Apilli, Isabetta Macor, Michela Florian, Bruna Zanotè, Luigi Tilatti, Blessing, poi abbiamo Gianni Zanetti, Claudio Stefani, e lui praticamente dice che questa posizione di direttore è una pietra miliare, è il primo step importante nell'avanzamento della carriera, quindi congratulazioni. And if you could just hit it one more time, and this is just a slide of motivation, something for us to think about this week, that there is no option of giving up. The incredible business of Dubli has allowed us to try, try, try again, but never, ever give up. Ok, questo è un incoraggiamento per tutti e due, abbiamo un business, per tutti, scusate, abbiamo un business incredibile, quindi la sua raccomandazione è mai, mai arrendersi, provare, provare e ancora provare. Grazie. A slide, please. People ask every single day, Why the Dubli Summit? Jerry, you know it costs money to go, it's a sacrifice, it's time away from my family. It's real simple and I want to cover just a couple, just a few of the bullet points, why it is so important, but mostly and number one importance, it is your million dollar business. Let's treat it like a million dollar business. Ok, molti si chiedono perché dovrebbero essere a Dubai, molti dicono magari ci sono, bisogna investire dei soldi, devo stare tempo lontano dalla mia famiglia e quindi ora ci dirà in molti motivi per cui dobbiamo essere lì, primo di tutti è che dobbiamo trattare questo business come un business milionario. So as we click for the next slide, David, I'll probably cover two or three at a time and then you can translate. So if you go ahead and click maybe three times, Michael, thank you. Global impact. It is a truly global impact, your Dubai Summit, just as this call right now is global, specifically for Italy, but you have the United States and many of you have business everywhere. You get a chance to be with your global partners. Networking, you get a chance to visit and interview and get to know senior vice presidents business like Blanca Williams, Thomas Schmitz, Dean Manheimer. Number three, experience luxury. There is no place on planet Earth like Dubai. I have been all around the world since January. I have been around the world eight times. There is no place like Dubai. Ok, allora Jerry ci dice che queste sono le prime ragioni. Impacto globale, abbiamo l'occasione di conoscere e intervistare dal vivo le leggende del senior vice president come Blanca, come Dean Manheimer, come Thomas Schmitz e quindi questa è un'occasione unica per noi. e altra ragione per cui dovremmo essere lì è sperimentare il lusso, non c'è nessun altro posto al mondo come Dubai. Lui ha girato molti, molti stati, anche di recente è stato molte volte in otto diversi paesi e dice che nessun paese al mondo, in nessun paese si può entrare in frequenza e risonanza con il lusso, con il benessere e con la ricchezza. So if you click three more times, there's nothing like being first. Be among the first to hear the history and the making. Be first to hear the information. Touch the information. Be a part because it will only happen one time. Number two, have fun. One thing I know about Italians, and obviously I don't know everything, but you love to have fun. We all love to have fun. Next, training. As we launch the academy that I just got off an hour conference call, dealing with everything we're going to bring to you in training, it is important for you to hear it first, be their experience and receive the training. Ok, allora dice che è importante essere lì perché questo evento che sarà una pietra migliare, il più grande evento nella storia di Dubli, quindi è niente, è come essere primi, cioè toccare per primi le informazioni, sentirle dalle proprie orecchie. Altro motivo, divertimento, sempre importante dividere, no? Scusate, divertirci. Il nostro motto è lavorare duro e anche divertirci e lui sa che i nostri italiani, noi come italiani amiamo molto il divertimento e quindi è una grandissima occasione di stare tutti vicini. E poi un altro motivo molto importante è il training, avremo la nostra accademia, il lancio della nuova accademia con il nostro nuovo C&O, Ricky, e quindi avremo l'occasione di avere una formazione unica ed esclusiva. Allora, next three, please. Witness, life-changing event. When you hear the story of Blanca Williams, senior vice president, she states for a fact that it was being in Dubai at the last event that she made the decision, see, it's like the song, what are you waiting for, 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 it was at that event that her decision changed her life. By being in Dubai at the Dubli Summit, you're going to have confidence, you're going to be able to speak of certainty of who this great company is and pay it forward. Your team is looking for your leadership, you need to be the team player by attending the Dubli Summit. Sì, questo ripete, ribadisce che sono degli eventi che cambiano la vita e Blanca, per esempio, come ho detto all'inizio, è stata a Dubai l'altro anno e questo è il motivo perché oggi lei è signor vicepresidente, e quindi oggi noi, lui ci ricorda all'inizio, avevamo questa canzone che diceva what are you waiting for, quindi cosa aspettiamo, è veramente importante essere a Dubai e avere l'occasione di toccare con mano, di sentire queste informazioni, di parlare con queste persone, capire i loro segreti, perché ce l'hanno fatta, come hanno fatto e quindi duplicare il loro successo. Vision, you're going to be able to hear, see, touch, feel the true vision of not only Michael Hanson, our new board of directors, myself, all the corporate team, but the true vision of where we are today, and more importantly, how do you fit in our vision for the future? We're going to have new product announcements, we're going to have new toolbar extension, new platform, mobile app, you're going to have everything for your success in Dubli, and it is true, events drive the business, but more importantly, events drive your business. Diceva che è molto importante, una delle cose più importanti è ascoltare la visione, sentire, toccare con mano, non solo dal nostro fondatore Michael Hanson, ma anche dal board, anche da Jerry stesso, e capire dove siamo oggi come azienda, ma soprattutto dove vogliamo andare, dove l'azienda vuole portarci nel futuro. L'azienda, come sempre ribadito, ha un piano da cinque anni molto forte, e inoltre verranno presentate nuove applicazioni, nuove toolbar, la nuova piattaforma, e sottolinea che gli eventi guidano il business, ma soprattutto gli eventi guidano il vostro business. L'evento è stato costruito per te, è stato costruito per noi, sarà il più bello che abbiamo mai avuto nella storia, quindi questo evento è stato costruito per noi, ma c'è bisogno di noi, di noi di essere lì, a testimoniare. And as we get ready to close, I only have another slide or two, I'd like to share with you, if you could move the slide. Stiamo vicini alla chiusura, ci sono le ultime slide. Non c'è nessun dubbio che il tempo, il timing, sia fondamentale, cioè il momento in cui prendete le vostre scelte. e qui abbiamo quello che un po' vedremo, le novità, quindi la nuova toolbar, le nuove piattaforme, il nuovo partner program, le nuove applicazioni, e questo cambiamento di questi giochi. e quindi i can see them on the screen. Nasdaq, the ability, and it will be announced in Dubai at the Dubli Summit, the vision for being on the Nasdaq, global expansion. We're going to discuss and share with you all where we're going, translations, payment solutions. I just got off the phone with India and gave them new solutions moving forward. enhancements for shopping, partner program and network, and the emphasis on the best trained sales organization. They're the ones that win. This is our commitment to the vision of Dubli in the future. Allora, riceveremo notizie sul Nasdaq. Verrà annunciato il motivo per cui l'azienda ha scelto la quotazione, la visione per cui essere lì a Nasdaq. Poi l'espansione globale, l'azienda sta per mettere il turbo, espandersi in tutti gli altri paesi alla velocità della luce, traduzioni, miglioramento di tutte e tre le categorie, quindi shopping, partner program e network. Appena finito anche una conferenza con l'India, prima di noi, dove sono state date nuove soluzioni, quindi l'azienda continuamente trova soluzioni. E soprattutto il miglior training, la miglior formazione per le organizzazioni di vendita. E questo è l'impegno, questo è il commitment dell'azienda nei nostri confronti. Next slide, please. Thank you. Hit the... And I think one more. You know, the question, and I believe this is my last slide, is how big and how fast do you want to be successful with Dubli? We believe everything will be in place for you to do that. David, if you just translate that, I want to spend a minute on global players. Ok, allora, la domanda, questa siamo all'ultima slide, è quanto grande e quanto veloce sarà la vostra crescita? E adesso ci darà l'ultimo commento sui player a livello globale. Just yesterday, I had the opportunity to meet with an author, a person who wrote a brand new book and a press release went out to the world about the author and the book. This author is not associated with Dubli, so it is an outside source. I held in my hand the very first copy of the book and the data. It is a complete book on global cashback companies in the world. It broke down the cashback companies in Italy, United States, all of Europe, all of Asia, country by country. And I'm here to tell you that Dubli made the list of the top 200 companies in that book. And as I sat with the author of the book, he shared with me, once we are done with the Dubli Summit, new platform, new tools, we have the opportunity to be number five, maybe number four, maybe number three, and maybe number one in the world in all of business, in all of cashback. And just as a side note, we were one of just a few that actually have an affiliate network marketing direct sales component. So congratulations, we are the talk of the industry and it's only going to get better. All right, just in these days, just in these days, just in these days, we met with an author, Jerry, an author of a book, which is written a book, this author is not associated in Dubli, he had in his hands the first copy of this book, and it's the first book, think, that speaks of cashback to a global level. It speaks of all the countries and Dubli, this is not associated to Dubli, Dubli was nominated among the 200 companies that are included in his book the most important book in the world, but he is sure that once we have done the summit, we will be back with the new platform, with the new technologies and what we have seen, Dubli could be nominated in the first five, four, three, two, or even in the first place at the global level. So congratulations for everything that is doing the company, for the inspiration I just want to say thank you to each and every one of you, each of you are valued, we appreciate you, we work for you, and as your chief network officer, I will be in Italy multiple times and I cannot wait to meet you personally and get to know you at the Dubli Summit. David and Michael, thank you for your invitation. We wanted to keep this under 40 minutes and we're at 37 right now, so I will turn it over to you, the incredible leaders, and again thank you for allowing me to be on this all-important Italy Dubli call. and thank you very much for the opportunity to be here. We have a great value for him, for him, for the company, and as our CEO, 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 L'obiettivo di questa serata era tenere questo meeting sotto i 40 minuti, siamo circa 37-38 minuti, dovevamo tenere sotto per non tenere una riunione molto lunga che fosse ridondante e quindi di nuovo ci ringrazio a tutti, è un grande onore da parte sua aver potuto stare qui con noi a questo webinar di aggiornamento. ringrazio anche me e Michael per averci dato l'opportunità di essere qui